Come utente di un pc sarai probabilmente in confidenza con molti disastri digitali e sarà proprio in questi momenti in cui un miliardo di domande ti passeranno per la testa. Essenzialmente vorremmo tornare indietro nel tempo per rimediare a tutti i cambiamenti fatti al nostro pc. Fortunatamente con Rollback RX ora puoi farlo. Virus e spyware sono ormai minacce quotidiane per i nostri computer. Gli antivirus sono certamente degli ottimi metodi per individuare i virus maligni, ma siamo davvero sicuri che puliscano completamente il tuo computer rendendolo come era prima dell'infezione? Anche scaricare delle funzioni da internet può essere pericoloso, rispetto. Alcune volte i programmi non coincidono con le tue aspettative, o peggio, lo crashano, rendendo quindi il pc inutilizzabile. E sì, potresti disinstallare i programmi, ma non saprai mai per certo se il computer è stato ripulito. Occasionalmente anche alcuni aggiornamenti del software Windows potrebbero causare il malfunzionamento di altri programmi. Come puoi venirne fuori senza rinunciare agli aggiornamenti? Vi presentiamo Rollback RX, il miglior modo di poter risolvere qualsiasi problema nel tuo pc, riportandolo al suo stato precedente. Rollback RX è talmente potente che può essere visto come 4 selezioni in uno. Può essere usato per ripristinare completamente Windows, fare backup continui dei dati in modo pulito, disinstallare software per recuperare delle situazioni di emergenza. Vediamo ora con una veloce occhiata come Rollback RX può essere usato per disinstallare completamente qualsiasi software. Diciamo per esempio che hai installato un nuovo gioco che, sfortunatamente, ha causato la comparsa di preoccupanti messaggi sul tuo pc, nel tentativo di usare i programmi d'ufficio. Per far ritornare il tuo computer come era prima, scegli l'istantanea del gioco in Rollback RX e dopo un rapido riavvio il tuo pc ritornerà come prima che il gioco fosse stato installato, senza aver bisogno di installare altri programmi. Con Rollback RX il tuo computer sarà esattamente come era prima di installare il gioco. Il cuore di Rollback RX sta nella sua abilità di scattare virtualmente illimitate istantanee. Ogni istantanea rappresenta una velocità di sistema. Ogni istantanea impiega solamente qualche secondo per essere completata ed impiega pochissima memoria, così da lasciarti libero di scattare quante istantanee tu voglia. Scattare delle istantanee con Rollback RX è facile e veloce, puoi impostare Rollback RX così da farle scattare delle istantanee automaticamente ogni giorno, notte o settimana. In addizione puoi anche impostare che le istantanee vengano scattate ogni volta che il pc si riavvia o ogni volta che rilanci un programma. Queste istantanee sono scattate invisibilmente e non condizionano in alcun modo le performance del tuo pc. Puoi anche scattare le istantanee manualmente, in qualunque momento tu voglia. Oltre a scattare limitate istantanee, con Rollback RX puoi anche tornare indietro a qualsiasi istantanea. Diversamente da Windows Restore, che può solamente ripristinare i file del sistema Windows in alcuni programmi, Rollback RX ripristina file di programmi, data e sistemi, qualsiasi file tu voglia. Dalla console di Rollback RX puoi visualizzare qualsiasi istantanea disponibile, poi puoi selezionare qualsiasi istantanea a cui vorresti ritornare. Dipende tutto da te e da quanto tempo hai installato Rollback RX. Se sei andato troppo indietro con le istantanee, puoi anche tornare avanti. Oltre a tornare indietro a qualsiasi istantanea, Rollback RX può recuperare i file dalle istantanee scattate. Questo permette agli utenti di tornare indietro alle istantanee senza perdere alcun tipo di file. Mettiamo quindi che sei dovuto tornare indietro di alcuni giorni per ripristinare il tuo computer, ma che tu abbia scoperto che hai bisogno di un file che hai appena creato. Con Rollback RX puoi cercare il file. Seleziona l'istantanea corretta e cerca il tuo documento su un drive virtuale ed importalo sulla tua istantanea corrente. Si possono anche trovare virus che distruggano completamente il suo sistema operativo Windows, rendendo il tuo PC inutilizzabile. Con Rollback RX sei protetto da disastri simili. Diversamente da molti altri programmi, Rollback RX è perfettamente funzionante anche quando Windows non si avvia, permettendoti di ripristinare il tuo PC senza dover rinunciare ad alcun file. Se per esempio il tuo schermo diventa blu ed il PC diventa quindi inutilizzabile, puoi riavviare il tuo computer e premere il tasto Home per accedere a un mini sistema operativo di Rollback RX, che appare come una sottoconsole. Questo mini sistema operativo protegge il tuo PC anche quando Windows non riesce ad avviarsi. Da Rollback RX Console puoi usufruire di molte funzioni di Rollback RX. In questo esempio, scatteremo l'istantanea del sistema crashato, così da poter recuperare qualsiasi file creato precedentemente del crash. Poi seleziona l'istantanea a cui ritornare ed istantaneamente il tuo PC si riavvierà esattamente come faceva quando l'istantanea scelta fu scattata. Puoi ora importare i tuoi file importanti dall'istantanea del PC crashato, con la funzione di recupero. Recuperare i file da un sistema crashato non è mai stato così facile. Se sei l'amministratore di una rete di PC, puoi gestire questi PC da lontano utilizzando Rollback RX RMC, che consiste in una componente di un server ed in una console di amministrazione. Rollback RX RMC è un modulo senza costi, che può essere utilizzato per gestire Rollback RX di altri PC, via LAN o via Internet, rendendo Rollback RX RMC la soluzione ideale per l'organizzazione di più PC durante l'impresa. Rollback RX è quindi una robusta utilità per il ripressione del tuo PC, che permette ai suoi utenti ed amministratore di ripressionare qualsiasi PC istantaneamente, risparmiando soldi, tempo ed ulteriori disastri. Non è quindi sorprendente sapere che molte istituzioni importanti si affidano a Rollback RX per proteggere il loro lavoro da errori di sistema e virus? Rollback RX è la migliore difesa per il tuo PC. Scaricalo subito per vedere come Rollback RX può trasformare il tuo PC in una macchina del tempo istantanea e salvarti così da qualsiasi disastro.